In questo numero del Salus Tg, Roma, a regina Elena, supermicroscopio per cellule tumorali senza più segreti, pronto soccorso in sofferenza, Danao, piano per riforma del sistema, SOS rinoceronte bianco, Merck collabora a progetto BioRescue. È stato presentato all'istituto regina Elena di Roma un supermicroscopio ad alta risoluzione per cellule tumorali senza più segreti. Il microscopio a fluorescenza confocale di ultima generazione, dono della Fondazione Roma, permette di osservare ambienti tumorali realistici e comprendere meglio i meccanismi che guidano le varie mutazioni del cancro. Non potevamo, ad esempio, vedere come alcune proteine nell'interno della cellula interagissero tra di loro e correlare questi aspetti morfologici con il comportamento della cellula, per esempio la capacità della cellula tumorale di muoversi, di propagarsi, che è un surrogato della capacità metastatizzante della cellula, che è quello che noi vogliamo studiare in dettaglio e soprattutto poi antagonizzare con farmaci sempre più efficaci. Un sistema in sofferenza, quello dei pronto soccorso, da riformare con un piano in tre mosse, puntando sul miglioramento delle condizioni di lavoro, la corretta previsione del favisogno di personale, la gestione adeguata dei codici minori. A proporlo è la Commissione Nazionale Emergenza Urgenza della NAO Assomed, in vista dell'esame nel prossimo incontro della Stato-Regioni delle linee guida del Ministero della Salute, già presente alle regioni. Un progetto di ricerca internazionale per impedire l'estinzione del rinoceronte bianco settentrionale. Oggi al mondo esistono solo due esemplari femminili anziani di rinoceronte bianco settentrionale, Najin e Fatu. Al progetto, denominato BioRescue, partecipa anche l'azienda farmaceutica Merck, mettendo a disposizione le sue tecnologie e le sue conoscenze sulla fertilità. Grazie.